Siamo in compagnia di Davide Mondonico, innanzitutto benvenuto in rosso-blu Davide. Grazie. Allora, sono i primi giorni col Crotone, le tue prime sensazioni e le tue prime emozioni nel vestire questa maglia. Sì, sono molto contento di essere qua, è un grande onore per me essere in questa grande società e sono molto contento. Sappiamo che sei un difensore centrale, puoi giocare in tutti i ruoli della difesa 3, spiegaci quelle che sono le tue caratteristiche. Sì, sono un difensore fisico che mi piace giocare con la palla e ho sempre fatto tutti e tre i ruoli nella difesa, ma l'importante penso sia quello di essere sempre a disposizione della squadra e aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile quando ce ne sarà bisogno. Sei giovane dopo l'altra fila nel giovanile del Milan, esperienza all'Albino Ref, dove lo scorso anno hai toccato l'abice della tua carriera con ottime prestazioni e adesso questa esperienza al sud, la tua prima esperienza. Cosa ti aspetti dal calore anche dei tifosi? Sono molto contento di essere qua, come ho già detto, avevo qua due miei ex compagni che ho avuto alla primavera del Milan, che sono crociato e zanellato. Con Giovanni ha un grandissimo rapporto, mi ha parlato benissimo di questa società, quindi appena ho avuto l'occasione sono venuto qua subito. Come aspettative non ne ho nessuna, nel senso che sono arrivato qua per migliorare, per essere sempre a disposizione della squadra, come ho già detto, per aiutarla in qualsiasi modo, per raggiungere gli obiettivi che vogliamo. Per chiudere, un saluto, anche se hai già salutato i tuoi tifosi il giorno dell'acquisto, però un nuovo saluto direttamente qui dall'Asila e un arrivederci e presto. Grazie, ciao a tutti e forza scuoli!